Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e Barberino di Mugello. Sulla 1 direttissima invece versante Emiliano, un chilometro di coda a causa di un veicolo fermo in avaria tra il Bivio con la panoramica e Badia in direzione Roma. Uno sguardo sulle raccordo Siena-Firenze dove a causa di un incidente già risolto si registrano ancora code all'allacciamento con la 1 in direzione autostrada. Sempre sulle raccordo Siena-Firenze a causa di lavori rallentamenti all'altezza degli svincoli di San Donato e San Casciano in direzione Firenze. Città di Firenze per lavori di sostituzione della rete idrica sull'ungarno Cellini previsti restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti fino al 7 dicembre. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!